Un regalo per gli innamorati, soprattutto dell'arte. In occasione di San Valentino, la Casa dei Castiamanti di Pompei aprirà eccezionalmente al pubblico dall'11 al 14 febbraio. Ingabbiati da una rete di tubolari, i 2600 metri quadrati dell'area di scavo saranno accessibili attraverso una passerella che guiderà i visitatori fino all'annessa domus dei pittori al lavoro. Ingresso limitato a 20 persone per volta per evitare danni all'inestimabile patrimonio e appuntamento da non perdere. La Casa dei Castiamanti chiuderà poi di nuovo i battenti per riaprirli nel 2020.